Ieri si è aperto lo screening della popolazione scolastica organizzato dal comune di Castellabate con sistema drive-in. A sottoporsi a tampone antigenico i bambini di tutte le scuole dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria di Castellabate, San Marco e Santa Maria, nonché gli alunni del plesso di perdifumo. Su 330 tamponi effettuati, 4 hanno avuto esito positivo. Dati incoraggianti e ci auguriamo per lo screening in programma oggi di averne altri ancora più incoraggianti. Abbiamo fortemente voluto effettuare questi tamponi prima del rientro a scuola. Queste le dichiarazioni del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. Da qui la necessità di emanare, anche se in tarda serata, un'ordinanza urgente per la temporanea sospensione delle lezioni in presenza. Quello che noi abbiamo a cuore è la salute di tutti, soprattutto dei bambini, continua Rizzo. Nessuna scelta ventata o scellerata è tanto meno illogica. Pertanto, con forte senso di responsabilità e consapevolezza, abbiamo agito chiudendo le scuole in via precauzionale, evitando però quello che sarebbe invece successo tornando a scuola. Abbiamo evitato gli ulteriori contagi che ci sarebbero stati in ambito scolastico già da oggi. Ci tengo a ringraziare tutti gli operatori che hanno collaborato con noi per effettuare tutti i tamponi. In particolare ringrazio l'associazione Tommy 125 per l'impegno profuso. Ricordo intanto che lo screening, sempre a partire dalle ore 15 di oggi, sarà rivolto agli alunni della scuola primaria di San Marco, della scuola secondaria di primo grado di San Marco, Castellabate e Santa Maria, nonché tutto il personale, docente e ata.